Ciao, siamo ad Urbino, siamo al Biosalus, appena terminata la conferenza di presentazione del libro L'anima e la magia dei colori e sono qui proprio con Michele Meomartino della rete olistica italiana. Michele, come sta andando questo Biosalus? È sempre un piacere partecipare a questa manifestazione che è giunta alla undicesima edizione. Questo è il terzo anno consecutivo che noi, la rete olistica, collabora con il Biosalus, una programmazione autonoma all'interno della quale abbiamo allestito un programma di tutto rispetto dall'area benessere oliseo, consulti, massaggi e altre cose e con delle conferenze e presentazioni di libri che si stanno susseguendo anche in questo momento, tra cui anche il tuo. È andato molto bene, penso. È andato molto bene, tante persone, tante persone interessate non solo al libro ma anche ai corsi. Io ti ringrazio veramente tanto e speriamo di vederci l'anno prossimo. Ce l'auguriamo, grazie a te.